Vi invitiamo a iscrivervi alle selezioni per il Servizio Civile Universale, il bando è pubblicato su tutte le nostre pagine di social. Durante il percorso del Servizio Civile Universale presso la Prologo di San Manco di Piemonte potrete imparare cosa significa la valorizzazione del territorio e potrete sperimentare quello che significa la parola cittadinanza attiva. Scegli di impegnarsi nel Servizio Civile Volontario, scegli di raggiungere un'esperienza qualificante a proprio bagaglio di esperienze. Partecipate alla selezione del Servizio Civile Universale, i ragazzi per quest'anno dovrebbero essere il progetto 2023-2024, abbiamo a milano di 4 ragazzi per il Servizio Civile, su un progetto natura e paesaggio del nostro territorio. I ragazzi saranno accompagnati dall'OLP e dagli dirigenti della Prologo in un percorso prestando particolare attenzione alla loro crescita personale e alla loro crescita anche formativa.